Maria Irene Ricci è una delle poche sopravvissute dell'Altino Volley. Allora, ancora un anno di B1 in compagnia però, Maria Irene, questa è una cosa bella, cioè di altri due abruzzesi, tutte e tre della provincia di Chieti, Altino, Chieti stessa e Orzogna. E questa è una bella soddisfazione. Sì, è una bella soddisfazione perché comunque essendo tre squadre ci saranno già tre derby, sarà una bella esperienza quest'anno, diciamo, avere molte cose vicino casa. Sì, perché erate sempre sole qui. Esatto, quindi adesso siamo in tre, quindi va bene, è una bella cosa, sono contenta di questo. A proposito di Chieti, tu sei di Chieti e giocherai contro il Chieti, come la mettiamo? Sarà una bella partita, emozionante, sicuramente, adrenalinica e che venga migliore sempre, quindi vediamo un attimo. Sei un'ottima balleggiatrice, questo lo dico io, sei rimasta tu tra le sopravvissute, come dicevamo prima, insieme con Sara Cipriani. Per il resto la squadra è stata smobilitata in gran parte, con qualche arrivo se ne vuoi citare un paio di giocatrici, tra l'altro proprio un ex nero-verbe. Sì, allora, il nuovo arrivo è Lorenzo Lupidi, con cui ho giocato a Civitanova, mi sembra tre anni fa, e diciamo che sono anche abbastanza contenta perché comunque è sempre bello ritrovare una compagna in squadra. Una bravissima ex di Atena, l'hanno a posto micidiano. Esatto, quindi sono contenta per questo. Poi altri innesti comunque che hanno un bel curriculum, ad esempio Mastrilli, comunque un ribello di alto spessore, quindi vediamo, siamo comunque cariche. Altino, che giocherà ancora una volta a Francavilla tutta la stagione, ha il palato fine ormai, però bisognerà abituarsi anche a un campionato, diciamo così, di permanenza tranquilla. Sì, diciamo permanenza tranquilla, però ovviamente una squadra non può avere un piccolo obiettivo, deve sempre puntare al massimo. L'ambizione ci vuole. L'ambizione ci vuole sempre e la fame pure, quindi vediamo un po' cosa ci esce.